Pronto, intervento. Sono caduta dalla bicicletta e mi sono fatta male. Resti in linea. Pronto? Parlo con Iben? Una cosa breve. Chi c'è insieme a lei? La persona che è con lei sa che ci ha chiamato. No. Lei è stata rapita? Sì. Iben? Ma, mamma ritorna a casa. Sono un poliziotto, siamo come eroi. Seguitelo. È che sa per uscire dall'autostrada, forse ci ha visto. Cazzo! A. A. Grazie a tutti.